Affrontare la separazione nel modo più sereno possibile, soprattutto nell'interesse dei figli e dei soggetti deboli che compongono la famiglia, può richiedere l'avvio di un percorso di aiuto della coppia o di uno dei suoi componenti. Fornire informazioni sui possibili modi con cui evitare o ridurre le cause di conflittualità è l'obiettivo dello sportello di mediazione familiare che la città metropolitana ha inaugurato ufficialmente presso il Tribunale di Torino, con la firma di un protocollo di intesa. La convinzione che la giurisdizione, specialmente nelle materie delle fasce deboli, ha bisogno di una legittimazione che passi anche proprio con il contatto diretto con le persone e che in queste materie comunque il diritto senza un supporto interdisciplinare non è che è inutile ma comunque serve a poco per affrontare le problematiche così difficili come quelle familiari. Questo è uno sportello secondo noi molto importante perché va ad aiutare le coppie in un momento difficile della loro vita che è la separazione e soprattutto i figli. Ci tengo a precisare che è uno sportello di aiuto dove le coppie o il singolo si reca in modo assolutamente volontario. Non c'è un obbligo in nessun modo da parte del Tribunale ma è proprio solo uno sportello volontario. Lo sportello sarà gestito da mediatori familiari e conduttori di gruppi di parola della città metropolitana di Torino in collaborazione con l'URP, lo sportello del cittadino del Tribunale Ordinario. Gli operatori forniranno agli interessati informazioni sui possibili percorsi extra giudiziali che possono essere intrapresi come gruppi di mediazione rivolte agli adulti ma anche come gruppi di parola che si rivolgono invece ai bambini e adolescenti per condividere con dei coetanei la loro esperienza. Lo sportello di mediazione familiare avrà sede in uno dei nostri uffici e ci sarà aperto tutti i lunedì dalle 9 alle 12.30. Ci sarà una responsabile della città metropolitana di Torino, la dottoressa Gaiotti che convocherà le eventuali persone che vogliono separarsi o che hanno dei problemi e darà loro delle prime informazioni generali. Per portare avanti questo progetto abbiamo creato un indirizzo email a cui l'utente può rivolgersi per chiedere eventuale appuntamento per avere le prime informazioni di base che è sportello.mediazione.tribunale.torino.chiocciolagiustizia.it Abbiamo dei moduli di compilazione della separazione consensuale presenti sul nostro sito e quindi metteremo su questi moduli anche le indicazioni dello sportello di mediazione di modo che l'utente già nel momento in cui compilerà la domanda saprà che può avere quest'ulteriore servizio presso i nostri uffici.